Perché lo fa? Durante il percorso ha avuto esperienze brutte? Sì, ha avuto brutte cose. Questo è solo poche volte successo. Sempre quando io fermo e voglio stare attento dove mettere tenta, nessuno capisce dove mi tenta, nessuno mi cerca, nessuno mi trovi, capito? Così io torno sempre tranquillo fuori. Dopo l'Italia io vado a Germania e dopo nel settembre io torno a Sicilia ancora. Un mese bisogno per arrivare a Germania ora, un mese, cinque giorni così, e dopo fa un giro a Germania, un grande giro, e dopo vado ancora, torno ancora a Sicilia in inverno. Grazie. Grazie. Grazie.